Io ho voluto trasformare quello che è stato un gesto efferato, un terribile atto criminale nei confronti di un giramondo francese che aveva scelto la nostra città come luogo dove svernare in un messaggio d'amore. Il messaggio d'amore è che lui era riuscito a diffondere a tanti palermitani ma che aveva anche incontrato da tanti palermitani, aveva avuto tanto da questa città, lui lo ammetteva, aveva avuto talmente tanto che aveva detto forse ho deciso di rimanere qua, aveva dato questo segnale tra le righe, aveva viaggiato tutta una vita. La sua è stata una scelta di libertà, aveva deciso di ripudiare, di rinnegare quella che era stata la sua vita precedente che io non conosco e non ho voluto conoscere, proprio per vivere libero imparando a conoscere luoghi e persone. Io a lui l'ho conosciuto non appena è arrivato a Palermo nel 2016, io ho fatto una video intervista per il telegiornale di Telewan e da allora poi posso dire è diventato un amico perché è venuto a stare a pochi metri da casa mia, aveva un gradino e attorno a questo gradino si sono sviluppate le storie fantastiche, tanti professionisti della zona lo avevano adottato. Io non sapevo diciamo di questo, con lui continuava a chiacchierare giorno dopo giorno ma ho conosciuto queste persone purtroppo dopo la sua morte e attraverso la loro testimonianza ho sviluppato questo racconto che fa capire di quante persone sensibili ci siano in questa città, sensibili anche a quello che a volte viene definito come un clochard che non era un clochard, c'è una parola infatti che io rinnego sotto questo profilo. Ho scelto diciamo in modo consapevole di devolvere la parte destinata all'autore, agli angeli della notte che è un'associazione di volontariato che si occupa dei senza tetto in città dove ho fatto io qualche anno fa anche il volontario ma che ho continuato a seguire nel tempo come giornalista. E al gattire di Palermo a dedica quello fondato da Pola Narzisi proprio in onore anche di Elios e dei tanti gatti che hanno bisogno di una marcia in più per riuscire a sopravvivere in una città a volte difficile come Palermo. Ho letto questo libro e mi ha colpito perché solitamente non si scrive sui barboni, se così potevamo chiamare Aldo che invece era una persona di grande spessore culturale. Mi ha colpito la sensibilità pure di Massimo Brizzi che si è preso cure, aveva questo trasporto verso una persona che era degli ultimi in una città che purtroppo mi dispiace dirlo. Apparentemente sembra che sia fredda, sia aggressiva, solo in mano alla mafia, che invece non lo è. Mi dispiace l'omicidio di questa persona che non meritava ciò assolutissimamente, davanti alla freddezza possibilmente della Palermo Bene che si è resa conto che era un essere umano solo quando è morto. Però questo mi ha fatto anche riflettere che c'è anche tanta gente sensibile. Mi dispiace che non è con noi e dedico una parte di questa giornata ad Aldo perché lo merita, lo merita ed è morto, dico, non nella sua città ma in una città che amava e che l'aveva fatta sua. Quindi un po' tutti noi palermitani dovremmo prendere esempio da Aldo ed amare la nostra città. Grazie a tutti.